Ciao amici, bentornati sul canale. Spesso mi chiedete di dirvi come utilizzo i social media, quale relazione ho con i social media e come faccio a non esserne perennemente risucchiata, come sembra capitare a molte persone. La verità è che i social media, soprattutto Instagram, mi risucchiano un po' più di quanto vorrei qualche volta e quando ciò accade sono meno produttiva o meno controllo del mio tempo, sono meno felice, mi sento un po' un fallimento, in generale non mi sento bene con me stessa. E credo che sia così per molte persone perché i social sono concepiti, ideati per mantenerci incollati allo schermo, per non lasciarci andare via e per farci proprio perdere il controllo del nostro tempo. Dall'altro lato però i social rappresentano secondo me una grande opportunità per noi perché ci danno la possibilità di rimanere connessi, rimanere aggiornati, di parlare e condividere cose, foto con persone che vivono molto distanti da noi per far parte di una community e ci possono dare molta ispirazione, quindi secondo me ci sono molti aspetti positivi dei social media. Ed è proprio per questo che io non li elimino del tutto ma li utilizzo e soprattutto utilizzo Instagram e YouTube che sono i social che utilizzo da consumatrice, quindi consumo contenuti e che utilizzo anche da produttrice dove condivido i miei contenuti. Spinta dal desiderio di utilizzare tutte le potenzialità dei social per imparare, rimanere motivata e ispirata ma senza essere vittima dei lati negativi dei social ho deciso di ideare, ricercare, mettere insieme alcune tecniche e consigli e di condividere tutto con voi in questo video. Ma passiamo ora ai miei sette passaggi, consigli, tecniche per utilizzare i social in maniera intelligente. Il primo passaggio è quello di capire quanto tempo utilizziamo effettivamente sui social. Per fare ciò io nei periodi in cui non mi sento molto produttiva o mi sento poco in controllo del mio tempo, faccio il cosiddetto time tracking, cioè passo alcune giornate a svolgere le mie attività normali, cerco di non cambiare nulla, ma su un foglio di carta o sul bullet journal scrivo quello che faccio, scrivo tutte le mie attività e scrivo quanto tempo dedico a ciascuna attività. Quello che accade dopo che faccio questo time tracking è che mi rendo conto di utilizzare molto più tempo sui social rispetto a quanto io non creda. Per esempio penso di utilizzare magari una ventina di minuti al giorno e magari mi rendo conto che utilizzo un'ora e mezza e in un'ora e mezza si possono fare moltissime cose, si possono fare molte di quelle cose che penso di non avere il tempo di fare. Provate a farlo anche voi, provate a prendere due o tre giorni della vostra vita e a fare time tracking, cioè a scrivere tutto quello che fate ora dopo ora. Se passate dieci minuti sui social alle 11 del mattino scrivetelo, se passate poi un'altra mezz'ora alle due del pomeriggio scrivetelo e poi fate la somma di tutto il tempo che avete passato sui social. Se vi rendete conto che è troppo tempo, che vorreste utilizzare meno tempo su Instagram o su Facebook, avete un buon punto da cui partire perché avete consapevolezza di quello che è il vostro uso del tempo. Il secondo consiglio è quello di decidere, stabilire quanto tempo passare sui social ogni giorno. Poiché abbiamo detto che i social offrono anche dei lati positivi e comunque ci permettono a volte di rilassarci semplicemente scrollando sulla home page di Instagram oppure di Facebook ci sentiamo rilassati, capita a tutti. Poiché appunto ci sono questi lati positivi possiamo utilizzare i social ma dobbiamo stabilire per quanto tempo possiamo permetterci di procrastinare davanti ad un sito web. Io ad esempio cerco di limitare questo tempo a 10 minuti al giorno e stabilisco sempre quando farlo. I 10 minuti dedicati a Instagram, per me è quasi solo Instagram, sono prima di cena alla sera. Non lo faccio prima di andare a dormire perché non mi piace, non mi piace che l'ultima cosa che vedo prima di dormire sia nei social e non lo faccio appena sveglia al mattino, di solito è prima di cena. E mi trovo molto bene così perché decido quanto tempo utilizzare sui social e non mi trovo a procrastinare una volta che quel tempo è finito. Quindi vi consiglio di fare lo stesso, di guardare alla vostra routine quotidiana e di pensare con intenzionalità quanto tempo voglio dedicare ai social, quanto tempo posso permettermi di dedicare ai social e poi cercare di mantenere la vostra promessa con voi stessi e adesso vediamo come. Il terzo consiglio è proprio quello di mettere un timer. Se per esempio alle 7 di sera decido di mettermi sul divano e di guardare Instagram, prima di aprire l'app di Instagram metto un timer per 10 minuti in modo da sapere quando scade il mio Instagram time. E questo secondo me è molto importante perché è facile, è veramente facile perdere il senso del tempo quando si guardano i social, ci si rilassa e non si fa nient'altro. Tutto a un tratto è passata un'ora e noi magari dobbiamo ancora cucinare, dobbiamo ancora finire di studiare e volevamo fare chissà quante altre cose. Quindi mettere un timer e chiudere subito l'app nel momento in cui il timer suona è veramente un consiglio che mi sento di darvi perché credo che vi possa aiutare. Un altro modo per raggiungere lo stesso obiettivo è quello di mettere un limite giornaliero di tempo all'utilizzo di una determinata app. So che si può fare sull'iPhone, sono certa che si possa fare anche su Android e su altri sistemi. Il mio quarto consiglio è quello di togliere le notifiche dai social. Se ci prefissiamo di non utilizzare i social al di fuori di questa social zone per esempio della sera è anche utile evitare di avere la tentazione di aprire un'app e usare magari mezz'ora su Instagram o su Facebook in mezzo alla giornata. Siamo più propensi ad aprire un'app se riceviamo una notifica da quell'app e quindi il modo migliore per evitare di avere la tentazione di aprire l'app è quella di rimuovere le notifiche. Tutto quello che dovremo vedere sull'app lo vedremo poi per esempio nei nostri dieci minuti serali dedicati a Instagram oppure a Facebook. Io sul telefono infatti non ho alcuna notifica, ho soltanto le notifiche di Whatsapp perché Whatsapp lo utilizzo anche per lavoro e ho le chiamate ma non ho notifiche di nient'altro. Il quinto consiglio è quello di rimuovere le app dei social dalla pagina principale, dalla home page del vostro smartphone. Per me era sempre un po' un problema aprire lo smartphone magari per utilizzare non so la calcolatrice o il calendario, vedere lì Instagram e poi mi trovavo a cliccare su Instagram e utilizzarlo magari per dieci minuti, un quarto d'ora. Ecco per evitare di farlo conviene semplicemente togliere, riempostare un po', riorganizzare un po' le app sulla nostra home e togliere tutte le app dei social dalla home e metterle in una cartella specifica, sapete che almeno sull'iPhone si possono creare cartelle e metterci tutte le app dei social dentro e metterla magari nella seconda o nella terza schermata dell'iPhone. Inoltre se avete un iPhone vi consiglio anche di togliere i social che non volete utilizzare dai suggerimenti di Siri perché altrimenti ogni volta che utilizzate la funzione cerca vi verrà fuori per esempio Instagram o Twitter o Facebook, quindi se togliete anche queste app dai suggerimenti evitate una tentazione in più. Il stesso consiglio è quello di installare le app dei social. Io non l'ho fatto, non ho avuto bisogno di farlo. In realtà ho disinstallato Facebook ma perché io non uso Facebook, non lo uso mai, però non ho avuto bisogno di disinstallare le altre app, ma credo che questo comunque sia un buon consiglio per chi veramente è addicted e molto dipendente dai social media. Se disinstallate l'app non avete accesso immediato all'app social e se volete accedervi dovete andare sul browser, sul telefono oppure sul computer, fare il login e insomma entrare nell'app e utilizzarla. Ancora meglio se vi imponete di utilizzare per esempio Instagram soltanto dal computer e fare il login dal computer perché aggiungete un passaggio al vostro percorso verso l'utilizzo dei social e quindi fate anche un po' in modo che il vostro cervello si stanchi già prima di raggiungere il social e quindi non decida poi di non arrivarci. Cioè più ostacoli mettete tra voi e i social media, più probabile è che il vostro cervello si astenga da portarvi automaticamente ai social media perché quel processo non è più automatico. Il settimo consiglio riguarda il modo in cui utilizzo i social. Quindi vi ho detto che io non ho fatto quit social media, come direbbe Cal Newport, quindi non ho abbandonato tutti i social, io utilizzo solamente Instagram e YouTube che sono i social dove condivido i miei contenuti e dai quali consumo anche contenuti. Su YouTube guardo principalmente video diciamo istruttivi oppure di avventura, documentari, quindi io non ho Netflix, YouTube è un po' il luogo in cui ogni tanto alla sera guardo qualcosa ma non ne sono proprio dipendente. Invece è più facile che io diventi dipendente da Instagram perché ce l'ho sempre sul telefono davanti a me, YouTube lo utilizzo principalmente dall'iPad quindi non ce l'ho sempre con me, mentre Instagram ce l'ho sempre con me. Ma come vi ho detto cerco di utilizzarlo soltanto una decina di minuti alla sera per consumare contenuti e andando nello specifico di quello che consumo cerco di seguire soltanto profili che mi ispirano, che mi motivano, che mi fanno sentire bene, che mi danno informazioni, mi fanno imparare, mi aiutano a tenermi aggiornata. Non seguo profili che causano un paragone, cioè che mi portano a paragonarmi con quello che vedo o comunque anche se seguo questi profili cerco sempre di rendermi conto che questo paragone non è un paragone ragionevole perché paragono me stessa magari in un momento in cui sono in pigiama sul divano ad una foto di una persona che si è fatta trucco, parrucco, luci, editing e tutto quanto e quindi non è un paragone che può portare a nulla di buono perché non paragona me ad un'altra persona in una circostanza simile, paragona me ad una persona in una circostanza studiata e preparata e questa è una cosa che dovremmo ricordarci sempre. Ricordatevela anche quando guardate le mie foto. Molte delle mie foto sono spontanee ma comunque sono foto che scelgo di pubblicare. Non credo che abbiate visto molto spesso foto di me sul divano, magari ne posterò qualcuna giusto per dare un esempio, ma ricordatevi sempre che fare un paragone tra se stessi nel momento in cui si utilizzano i social e quello che si vede sui social non è mai una buona idea. Quindi questo è un po' il modo in cui cerco di utilizzare i social. Credo che comunque siano un'ottima fonte di ispirazione, permettono anche di conoscere molte persone, di imparare molte cose. Io spero di condividere dei contenuti che vi sono utili e che vi aiutano, vi ispirano e vi danno un po' di carica positiva sui social. Per me la chiave di tutto è sempre l'equilibrio. Non voglio mai andare all-in nei social media e non ho mai fatto un vero e proprio detox. Cioè ho fatto detox sì per esempio quando ero in vacanza perché non ho guardato il telefono ma era più perché mi stavo divertendo facendo altro che non perché non volessi utilizzare il telefono. Secondo me l'equilibrio, trovare un buon equilibrio è sempre il modo migliore per gioire un po' di tutto. Sono molto curiosa di sapere qual è il vostro rapporto con i social media, se vi sentite dipendenti e se avete altri consigli in più rispetto a quelli che ho dato io da condividere con la community in modo da aiutare tutti gli altri a sentirsi un po' più in equilibrio nell'utilizzo dei social media. Spero che riusciate ad astenervi dall'uso dei social media mentre dovete studiare, cercate sempre di preservare la vostra concentrazione. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.